C'è il camannino alto! BOOM! Ti ho battuta! Ti ho battuta? L'ho battuta vero? SI! Ragazzi mi ricordo davvero è uscito il mio nuovo fumetto non privatevi che è una cosa stupenda vi prego fatevi un regalo che sono avventure nelle backrooms divertentissime Wow! Ma che cosa l'ho tentato di fare? Oh mi stanno a rapinà! Mi stanno a rapinà l'animatronico! Ma che è successo? Sono un animatronico! La prima pizzeria di FNAF quella del Bite of 86 Guarda c'è Bonnie Uomo numero uno Dovrebbero essere già pronti Sì signore, li abbiamo riparati bene dall'anno scorso Guarda come sono in forma Ma cos'è sto posto? Foxy, ecco Foxy Guarda Ma che diavolo è successo? Non ci capisco niente ma è sicuramente qualcosa Però grazie per i complimenti E qui c'è Chica! È stato un piacere Qua stanno facendo esperimenti Infatti c'è scritto Foxy Lab E niente non ho capito cosa stanno dicendo Parlavano ancora Abbeyed at Freddy's Guarda c'è il morso di Freddy qui Guarda È bellissimo il menu Vabbè iniziamo Mi piace che inizia proprio come il giornale di FNAF 1 C'è il lavoro La Freddy Fazbear Grill sta cercando assistenza Quindi dovrò lavorare in un ristorante E assicurarmi che le macchine Diano il cibo Quindi praticamente sono degli animatronici che portano il cibo A volte bisogna ripararle Quindi bisogna fare il test Oh boy! Lavoro per me Dato che mi danno cibo gratis se lavoro lì Mi hanno grabbato col cibo gratis Benvenuto alla Freddy Fazbear Grill Oggi testeremo il sistema del cibo Proveremo un paio di volte il sistema Io sarò in cucina a fare gli ordini E te li metto praticamente nella ruota degli ordini Saranno mandati alla stanza A La stanza B e il mio ufficio Tu dovrai confermare che questi ordini Arrivano in queste stanze E utilizzare la telecamera per vedere se arrivano davvero È un tutorial questo Per insegnarmi a giocare a FNAF Se c'è qualche problema con il tapirulan Lo puoi fermare con la leva Vabbè dai Accendi le luci e se si avvicinano Così se ne vanno Oh! Questo è uno degli animatronici Questa è il cowboy Chica E ha una pistola giocattolo Devi colpirla in testa tra gli occhi Se io vedo Chica Devo utilizzare una pistola che ho sul tavolo Ok iniziamo a controllare Oh cavolo! Freddy! Guardalo lì come tipo un late night show Con Freddy Musa E qui abbiamo Bonnie E qui abbiamo Chiquita Questo sembra tipo All the wild west Guarda c'è il mio collaboratore con il cappello da cowboy Che sta lì a preparare le schifezze Il fast fooddolo E io devo praticamente confermare quando arriva in giro Ma guarda ogni cosa che premo Parla Qui abbiamo una pistola Mani in alto! Divertente! Credo che devo sparare la Chica questa quando arriva Così spegno la corrente Ma spegne la corrente Aumenta l'energia! What? Qui invece possiamo illuminare Se qualcuno arriva però mi porta un sacco di energia Io non sto capendo Cioè accendere le luci Spreca energia Bah io non sto capendo veramente O loro sono ancora qua Meno male Il mio collaboratore sta facendo qualcosa Qua si può chiudere una porta Allora apri la porta Automatic door stand back Ah ok serve per chiuderli fuori Quindi gli animatronici potrebbero arrivare qua Vedete che l'order stature è in sending Sta mandando un ordine Ora abbiamo capito No! Bonnie? Bonnie? Bonnie è qui! Cavolo lo vedete ma come stanno camminando È bassissimo Ma sono rotti Non sono in un buono stato gli animatronici Se si stanno muovendo così Aspettate voglio provare una cosa Yes! Ah! Suono suave lo amo Per fortuna che mi hanno messo i suoni suavi Si sta... No! Si è spostato di nuovo Chica è ancora lì Meno male No! Si sta spostando il corridoio Sicuramente sta andando a prendersi i panini Ah! Confio il morder! È arrivato l'ordine! Confermato! Confermato! Perfetto! Qui cosa? Ne stanno preparando un altro? Aspetta ma quell'hamburger Hey you! Ok! Sono qua da troppo mi sa L'hamburger mi sta parlando Dove? Si sta muovendo Chica! Oh signore! Devo stare attentissimo Ma che Five Nights at Freddy's è sto qua Guarda i giocattoli Sono tutti guardali là L'Allegra con Briccola Cosa stanno facendo? Uno stand off del web Oh! Ok! Oh no! Oh no! E... Pop! Tu non puoi entrare! Mi spiace per te! Hola! Ecco così funziona Lo mandi via Questo è il laboratorio di Foxy Foxy potrebbe tornare Ma dove è andato ora Bonnie? Ah! Di nuovo fuori! Abbiamo capito come mandarlo via Ottimo! Devo sempre controllare le telecamere per adesso Per adesso dovrebbe essere abbastanza semplice L'ordine... A che punto siamo? Ancora in preparing? Sì però dura troppo No! No! Cicchita! Guarda come guarda! Mi fa paura È Cicchita Eastwood quella Ma non c'è nessuno Bene È in sending mode l'ordine Dai che li facciamo tutti Dai che li facciamo tutti boys Dai che ce la facciamo Dai tu sbrigati con quelle mani in cucina Che voglio il... Oh signore! Dov'è andata Cicca? Stiamo bonito Cicca sei qui? Cicca? 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 Mani in alto! La sparo come uno sparviero Non... Non so dove è andata È fuori dal radar Oh! Eh? Cicca mani in alto! Boom! Ti ho battuta! Ti ho battuta! L'ho battuta L'ho battuta vero? Sì! Ah! No! Non l'ho fatto bene Sono diventato un suo pollo No! Devi essere veloce Eravamo messi così bene No! No! Quindi controlliamo meglio C'è il laboratorio di Foxy Non disturbare Ci sono anche dei codici 2315 Perché ci sono tutte queste cose matematiche? Qua invece hanno riparato gli animatronici È la sala riparazioni Io non so cosa ci hanno fatto Secondo me ci hanno ficcato dentro un bambino Per forza Mi aveva ne promesso che non mordevano Questo qua non se ne sbatte poi E c'è gli animatronici in casa Vabbè qua mi faccio una tisana Che qua Se clicco qua Bene, bene Oh! Sì Fa bene la salute Stanno inviando un ordine Vinto! Vinto stavolta! Vero? Sì Sono tornati in corridoio Ha ha Oh 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 Ok voglio provare una cosa Voglio vedere se ora Intanto è arrivato un nuovo ordine Ottimo Voglio vedere se adesso lo lascio entrare Cosa succede? Cioè mi entra nel condotto Quando controlliamo Cioè mi entra nel condotto Io cosa devo fare se mi entra nel condotto Cioè potrebbe... Oh! È dentro È dentro L'ho mandato via Ok ciche Qua No Cica 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 No Ecco Così impari Voleva entrare anche lei dal condotto Quindi lei può arrivare anche da lì Ah! Poi è tornato indietro Dai c'è tanto da mangiare lì Prego di mangiare me Avete letteralmente hamburger di manzo Ok Bonito Bonito Cicchita però non torna più indietro Guarda Guarda tutti e due fratelli di stanze spuzzolenti siete voi Fratelli lì che stanno lì a grapparsi le mani Cica è pronta Vento Devi essere prontissimo con lei Aspettare che venga fuori Poi torna indietro all'etamina Lui invece è in camera 4 Let's go Mamma mia che attenzione I dettagli devi avere Freddy Freddy è un grande col suo occhiolino Attenzione c'è elettricità qui Questo è il mio vento No Però ho dei bellissimi disegni qui Aspè Si sta muovendo qualcuno Oh di nuovo qui Beh questa volta ti chiedo fuori cagnaccio Bow 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 L'ultimo ordine dovrebbe arrivare da me Sinceramente Me lo bagno io E' da me Sì che buono Ho completato tutto L'ho dato che fuori Che anch'io mangio Perché Aspè perché si è rotto Ma che cosa è successo Quel bulbo è esploso Dovrebbe esserci una scatola Per riparare il bulbo Nell'ufficio a qualche parte Aspetta credo che sia questa la scatola Non c'è problema Grazie mille Quel bulbo ogni tanto aveva dei problemi Meno male che l'hai riparato E lo sapevi che se senti caldo Sopra di te è un nuovo condotto di ventilazione Aggiungono problemi Mi stanno aggiungendo problemi che ci avevo già E' connessa al sistema di telecamere Controllalo quando vuoi Dai ora facciamo altri ordini No ma devo continuare No spe Ce l'ho sopra di me Me l'ha attivato così E viene dalla camera 6 Vedi dalla camera 6 Lui può arrivare Oh no E mi sa che anche Freddy Può muoversi Oh gica giacca E' un problema questo Freddy lo si sta svegliando vedi Prima aveva gli occhi completamente chiusi Se non erro sbaglio Però almeno Chica è tornata dentro Fox invece Fox e relina Fox è sempre chiusa Ed è un bene che sia così Ma perché c'è questo condotto E' connesso a troppe cose Però posso chiuderlo Se vedi lo posso tagliare C'è un modo per forse tagliare Un animatronico che si mette là dentro Chica No Freddy Si sono sostituiti Chica è stanche Fa il riposino Ma Freddy ora si muove Guardalo lì Devo star mooo Guarda pronta come un ross Ma a fare boom Si mettono indietro e poi vanno AAAAAAA Che paura Oh Non farlo Nessun dorma No No Nooo Meno male Mi posso arrivare anche nell'ufficio Anche nell'ufficio mi posso arrivare Chica non è arrivata Nel condotto non c'è ancora arrivato nessuno Guardalo lì HUM 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 Non credo Non credo No no non se ne sta andando Bonnie non è qua Bonnie Non è neanche qua No dove è Bonnie Dov'è Bonnie No anche Chica se n'è andata Bonnie è lì Chica è qua No Bonnie si è spostata Devo ascoltare i rumorini Freddy è sempre lì Oh melma Chica Chica è in corridoio Sono troppi Oh no Questo è un grosso problema Dov'è andato? Freddy è fermo per adesso Si è spostato Sono tutti e due in corridoio E Chica non è ancora qua No Chica è nel condotto Ferma Il posto dovrebbe andarsene Controlliamo gli altri Sono ancora in corridoio Chica se n'è andata Ottimo Uuuuhu Troppi animatronicini I miei bei 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 bambini State lì Fatele Fate un duello di far west Dai Ammazzatevi farà di voi Eeeh Eeeh Questo è un problema No Freddy è molto vicino ad entrare Questo era il condotto vedi Chiudi Non puoi entrare Oppure lo faccio entrare Lo faccio entrare ma OOOH Guardali lì I ranocchi Ma non si è stato neando Qua si è stato neando Controlliamo la zilla OOOH 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 Sapevo che eri qua Spento 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 Perfetto è tornato in corridoio Chica Chica si prepara Quando è qua si prepara Freddy Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Aspetta No L'ho mandato via? Credo di sì Credo di sì Freddy Freddy Vinto Vattene 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 Sì Così non si fa Qua Oh è tornato è tornato Quindi si accendi la La vent Freddy torna indietro Questo è buono Ma io mi chiedo se posso tagliarlo Se si avvicina lo taglio Sarebbe interessante Tagliarlo Ok Conferma l'ordine Qua non vedo nessuno Mi stanno ripreparando AAAAAAAA E non è di un pigio da qualche parte Bonnie ti ha visto Ma perché tu non l'hai visto Sono diventato il suo panino Vedi che questa è una mano umana Mi ha mangiato Mi ha messo nel cibo E' difficile questo gioco Va bene ragazzi Per questo episodio Mi fermo qua Fatemi sapere se volete Che io continuo questo gioco Io lo vorrei continuare Perché sembra molto divertente E ci sono delle meccaniche interessanti Tipo ho sentito Che puoi spattacchiare Il Freddy Questa sarebbe una cosa bella Da fare per il prossimo episodio Lo andremo a scoprire assieme Nel prossimo Vi ricordo inoltre Che è uscito il mio fumetto Non privatemene Link in descrizione Che è bellissimo Noi ci vediamo Al prossimo fantastici video Di Five Night at Freddy's